Amara sconfitta in volata per l'AMBC Servizi, che a Tortona non riesce a capitalizzare una partita condotta per oltre 35 minuti e sfuggita di mano nel finale per merito dell'energia messa in campo dai padroni di casa della Gulliver. Parte determinata la sbacca e fin dalle prime battute prende in mano le redini del gioco. Con il passare dei minuti i padroni di casa cominciano ad entrare in ritmo, ma il quintetto di cocce evangelisti alla prima sirena è avanti 24-15. Nel secondo parziale gli Amaranto sono attenti a non far prendere fiducia ai tiratori avversari. Purtroppo però alcune disattenzioni non permettono ai ragazzi di cocce evangelisti di operare un break consistente. Al rientro dagli spogliatoi Arezzo tiene sempre la testa avanti, ma anche in questo caso non riesce a capitalizzare quanto costruito. Vertona chiude sotto 55-65. L'ultimo quarto inizia con i locali molto aggressivi e decisi. Arezzo perde fluidità in attacco perdendo alcuni palloni che rimettono in carreggiata la Gulliver. L'inerzia della gara passa così nelle mani di Dertona. Una tripla di Conte porta la squadra di casa sul più 4. Arezzo deve affrettare i tempi e riesce a pareggiare con Toia, ma la squadra di casa sfrutta la presenza vicino ai canestri di Tambè decisivo nel segnare punti e ridare seconde occasioni di realizzazione ai compagni. A 50 secondi dalla fine la tripla del possibile pareggio di Rossi sul ferro gli Amaranto alla fine si devono arrendere con il punteggio di 86 ad 81. Adesso dopo due trasferte consecutive un fine settimana di pausa per la MBC Servizi prima di tornare in campo domenica 7 aprile alle 18 al Palasport Estra contro College Borgo Manero.